3, 2, 1 Con Katia all'inaugurazione di questo bellissimo negozio, macelleria e non solo, a Taglio di Po. Porca Vacca, ho sbaglio, il nome giusto? Esatto, Porca Vacca, la macelleria con degustazioni delle nostre carni. Io sono una delle titolari perché poi abbiamo Ilaria e Luca, Ilaria è mia figlia e Luca il marito di Ilaria. Noi tre abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, questo bellissimo progetto dove noi crediamo molto, e la macelleria dove ci saranno prodotti di qualità e poi in un secondo tempo, perché per problemi tecnici non siamo riusciti a completare, ma ci sarà un piccolo ristorantino sopra dove si potrà appunto degustare queste magnifiche carni. dal martedì al sabato, tutti i giorni a macelleria, dalla mattina al pomeriggio, mentre il ristorante sarà aperto solo alla sera e chiuso alla domenica, lunedì. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.